John Bourne ragazzi, John Bourne e benvenuti in questo nuovo video, madonna se sono euforico, benvenuti e benvenuti in un nuovo appuntamento con Pukki! Lo sai perché sei euforico? Pukki, Pukki Eh, dillo, perché sei euforico? Leoleoleole, Pukki No, non lo so perché, perché sono euforico? Perché sai che hai vinto stasettimana? Non lo so, però te posso dire cosa mi è rimasto... Cosa mi è rimasto in testa della scorsa settimana? Che tu mi hai detto, questa settimana ho messo 1-1 a Juve-Roma e non 2-1 come settimana scorsa, quindi perderemo e abbiamo perso! Io ti ho dato una testata qui, potevi pensarci prima? Eh, non solo, perché poi mi ricordo il risultato che hai messo te, tra le altre cose E poi vai lì Olè, 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 Pukki, Pukki Allora, 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 ragazzi, dobbiamo andare a giocare, dobbiamo vedere i risultati di settimana scorsa, dobbiamo fare i pronosti di questa settimana Un sacco di roba, un sacco di carne al fuoco e andiamo a farli su Pukki! Che cos'è Pukki? È un fantasy game dove potrete divertirvi a sfidarvi e a sfidarci di settimana in settimana Con i risultati esatti, e non solo, adesso lo andiamo a spiegare, di ogni partita, nel nostro caso, io e te ci sfidiamo Ogni settimana sulla Serie A, potete farlo anche voi, ma insomma, ognuno, ognuno poi fa quello che preferisce Dovete semplicemente indovinare il risultato Risultato esatto, ma prenderete bonus anche se la partita la vince la squadra che avete detto voi Oppure esce il risultato gol, o esce il risultato under-over, insomma, dipende da quello che mettete E avete la possibilità di giocare con Pukki sfidandoci, oltre che sfidandovi Rapidamente vi spiego, ci sono due modi Voi, quando vi iscrivete, gratuitamente ottenete una Rookie Ball E giocate gratuitamente nel campionato for fun, nel campionato free, gratis Se arrivate primi, vincete una Pukki Ball La Pukki Ball, che è quella bella, quella grossa, quella che lui c'ha dalla Lazio Quella succosa Che tu c'hai dalla Lazio Quella lì vi permette di giocare in un campionato dove c'è la possibilità di vincere Premi in denaro ogni settimana In base al Monte Premio a disposizione Regà, regà, due settimane fa c'era 700 euro di Monte Premi Però quelli potete vincerli solamente con la Pukki Ball Quindi, o con la Rookie Ball arrivate primi e vincete la Pukki Ball Per poi andare a fare il torneo Cioè il torneo, per andare a fare il campionato a premi In denaro Oppure, beh, la comprate, 25 euro ce l'avete per sempre La comprate una volta E ogni volta, bim, bus, bidu, bis, bidu, bis, bidu Poi, c'è giurata per tutta la vita vostra Poi potete rivendervela se vi siete stufati Ve ne potete comprare due o tre se volete strafare Insomma, divertimose Te posso dire una cosa, tra l'altro Qualche giorno fa Mi ha contattato un ragazzo in privato su Instagram E mi ha scritto Au! Mi ha mandato la foto dei piedi? Ma, ma, no, anche Oltre quella, però, mi ha mandato la foto Mi ha azzeccato sei risultati esatti Perché, ma, ma come sei risultati? Sei risultati esatti Io sono rimasto, io, io manco, io ho risposto Sono rimasto talmente male Che manco io ho risposto Io avrei mandato a fanculo Bonariamente, però, insomma Se si scherza, eh No, non si scherza per niente Senti, allora, c'è da fare una cosa Perché a me mi sono mosciate Mi si è mosciata la pressione delle palle Ma io prima direi Guardiamo i risultati Che voglio perdere subito Poi dopo confiamo le palle Fiamo tutto quello che, ok? Va bene Comunque non mi pare che mi è nato tanto bene Però, va bene Andiamo, 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 andiamo Andiamo a vedere È andata meglio di me, fidati Vai Non è così tanto male a te Allora Io ci sono Napoli-Monsa Napoli-Monsa Una partita di quelle Che io pensavo che Io avevo pronosticato 2-0 per il Napoli 2-0 Io 2-1 per il Napoli Ecco Ecco, è finita 0-0 Quindi, di base Siamo presi tutti e due in quel posto Ma proprio del culo Io ho 0 punti Ah no, io ho 49.7 Tu direi perché? Perché ho preso no goal Perché avendo preso 2-0 Ho preso il no goal Tu non hai preso niente Perché tu c'avevi Over Goal E X Che ha preso? Niente Vai Un palo Un palo E quindi E quindi 49.7 Fiorentina Torino Ma abbiamo ricordato che Possono passare ovviamente Sul link in descrizione Per iscriversi a Puky Ah, chiaramente 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 Mi sono dimenticato È vero ragazzi Il link in descrizione è qui sotto Mi raccomando Mi raccomando Qui sotto Link in descrizione Passateci per iscrivervi gratuitamente A Puky Allora E per sfidarci ovviamente Oltre che sfidarci Fiorentina Torino Io ho messo 1-1 Avevo messo anche io 1-1 È finita 1-0 Però a me 41 punti Me l'ha dati Probabilmente perché ho beccato Lander e il gol della Fiorentina No, allora il gol della Fiorentina Da quanto so non dà punti Lander Perché io pure ho preso 41.5 E io 41.2 Perché ho le palle Le presiede delle mie palle È più gonfia Probabilmente sì Allora Genoa e Inter Ecco E chi se lo sarebbe mai creso Come direbbe qualcuno Allora Nella realtà 1-1 è finita Io ho messo 0-2 Tu forse hai messo addirittura 0-3 Quindi tu mi hai anche preso punti Quanti hai messo tu? Io ho messo 1-2 Allora tu hai preso più punti di me Tu hai preso più punti Perché Quanti hai preso? Zero? Zero E gol Vabbè Perché è over Io ho preso under Perché ho messo 0-2 E mi hanno dato 43.7 punti Veada a te Veada a te Vai Lazio Frosinone Sì Che hai messo? Dai dimmi Ma io qua mi ricordo Quello che hai messo te Che ho messo io? Hai messo proprio 3-1 per la Lazio Io ho messo 3-1 Ho preso 362.9 punti Mamma mia Ti dico fermete Tu che hai messo? Io 2-1 Hai preso punti Dico qualcosa Hai preso Sì ma sono 123 123 con la Pukibol Ricordiamolo Perché lui avendo la Pukibol della Lazio Io sono quella della Lazio Se non mi facevate 123 Ecco Bene Perfetto Grazie Grazie Atalanta Lecce Che hai messo? Io ho messo 2-1 Va Atalanta Pure io E finita 1-0 46,9 punti Ma io 42.6 Perché? Ebbene Non mi sembra corretto Io devo essere sempre quello che prende più punti Quando mette lo stesso risultato Cagliari Empoli Che hai messo? 2-1 Cagliari Non hai preso punti? Io mi ricordo che tu hai detto 0-0 0-0 0-0 0-0 282.3 Punti Mamma mia Comunque quanto sono forte Quanto sono forte Mamma mia Ecco Ho parlato Vabbè Però quanto sono forte Mamma mia Adesso cominciare le cose sofferenti Sì Tra l'altro ho preso 282.3 punti Perché ho risultato Il risultato esatto Ragazzi La classe non è acqua Della mia Pukiball E della tua Pukiball Il risultato esatto Indovinato Andiamo avanti Perché devi infierire? Udinese-Bologna È finita 3-0 per l'Udinese Io ho messo 1-1 Io ho 1-2 Prendo 59,8 punti Per l'over Ringrazia i Dio Io ho 0 punti C'è il tipo che piange disperato Si trafigge Milan Sassuolo Allora Ho detto 2-1 Però è un over Il mio Pronosticato È finita Under Di Orto Muso Prendo 48 punti Perché hai preso la vittoria del Milan Ha schifezza Poi? Io prendo 0 punti Perché avevo messo 1-2 Per il Sassuolo a sorpresa Ma non l'ho presa Ok Poi? Verona Salernitana Vabbè Qui non avrei mai messo 0-1 Mai No 1-2 Per la Salernitana Allora hai preso punti Avrei preso una cinquantina almeno 129 Perché così tanti? Non me lo chiede Vabbè Non era facile Vittoria in trasferta Era difficile Io ho messo 3-1 Per il Verona Ho preso 0 Ok Qualcosina ti ho recuperato Ma tu stai direttamente avanti a me Poi? Juve Roma 1-0 140.2 punti Pure poco comunque Cioè ho preso quasi i punti Che hai fatto te Con Verona Salernitana E io 36-8 Pronosticando 1-1 Ah Dai vabbè Chi può stare Sono curioso di vedere Dove si è arrivato Quanto più invasoriato di me In classifica Andiamo su 0-results Vai Match day 18 Vediamo Ci sono 6 centesimo 485 punti Gabbo Gabbo Sono arrivato 83-esimo 962,9 punti Del doppio dei miei Bravo a me Me lo dico da solo Bravo a me Infatti guarda Quanti POC E quanti Matic Ho fatto Mamma mia Vogliamo Vogliamo gonfiare le palle Gonfiamoci le palle Gonfiamo le palle Tra l'altro La porto al massimo La porto al massimo Ovviamente Porta l'accento Che credo sia Fondamentale E poi che cosa vogliamo fare Vogliamo Spompicchiare un po' Le Pookieball Senti Io voglio Portarla al massimo livello La mia Pookieball Più possibile Voglio farla Al massimo Delle possibilità Dici Sì Chiaramente Per tutti i punti Tutti i POC Che ho accumulato Adesso ho ricaricato La pressure Della mia Della mia palla Adesso vado A livellarmi Sto andando anche io Vediamo fino a quanto Ecco Io già sono arrivato Vabbè Io pure sono arrivato Sono arrivato praticamente subito Eh ma secondo me Ma pure io Ma secondo me Io sto molto più in alto di te Sono molto più in alto di te Vabbè Io Sto potenziando Comunque Voglio fare questo Questo tentativo Per Per vedere dove posso arrivare E poi adesso Entriamo nei meriti Perché Per chi non lo sapesse Ovviamente Eh Si va a potenziare La Pookieball In maniera A mo' di gioco di ruolo E scegliete voi Quali caratteristiche Potenziare Prima di altre E Io andrei Prima di tutto Su Over e Under Anzi Sai che ti dico Io faccio Tutto più 1% Io pure Faccio così E arrivo Paro paro Tutto più 12% Io Più di quello Non posso fare Io arrivo Paro paro Tutto più 13% C'ho uno in più E me lo carico Sull'over Anzi Sull'Under Perché io gioco Molto sull'Under Senti La mia Pookieball Eh Te lo stavo chiedendo La mia è al 22% E la mia è al 29% Vabbè Vabbè Poi dice Poi dice Pia stis picci Pia stis picci Allora Allora A questo punto Abbiamo spompicchiato La pallina Non è molto carino Detto così Io direi Di andare a giocare Giochiamo? Io direi Di sì Quindi Andrei su play Andrei su Come sempre Italian League Poi qualcuno Ci aveva chiesto Se magari Per le prossime Settimane Possiamo fare Una sfida diversa E magari Buttarci sulla Premier O piuttosto che Sul campionato Spagnolo Io direi Per questa settimana Visto che me voglio Prendere la rivincita Continuiamo su Italian League Però magari Eh Una settimana Ci sfidiamo E vi sfidiamo Ad un campionato diverso Anche per rendere La sfida un po' più Pepata Se sei d'accordo Ci pensiamo Sì assolutamente Si potrebbe fare Si potrebbe fare Italian League Almeno magari La volta buona Che a qualche punto Lo fai Eh sì Ma quando Ma peggio ancora Allora Genoa Si può Bologna Genoa Vai Io ho il punteggio Già in mente Fatto Definita Chiusa Io pure ho fatto Ti dico cosa ho messo Ho messo 2 a 1 Per il Bologna Perché Ma pure io Perché Perché secondo me Il Bologna Allora se l'hai messo Tu lo cambio Perché Non ci prendi No no Quello è vero No allora No no Allora Lo tengo 2 a 1 per il Bologna Chiaramente non lo cambierei No allora Il discorso è che il Bologna Ha appena perso 3 a 0 Dai secondo me Può essere che una vittoria La fa Può essere che E poi il Geno Un golletto Glielo appizza Io credo che Il Bologna Comunque continua a vincere Quanti punti prendi? Io metto Set prediction 255,4 Io già l'avevo messo Io 257,7 Va beh Ce sta C'è un per cento in più E ok Inter Verona Che avrei Ok Ce l'ho in testa Che te dico No le avevo già fatti precedentemente E visto che ci sto Magari prendo spunto No? E non sputo Ecco Io qua Facciamo Facciamo Bla 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 Vado così Allora dimmi quanto hai messo? 3 a 0 Inter Allora guarda Io ho messo 2 a 0 Inter Io ero decisissimo Con il 2 a 0 Ma fino all'ultimo Io pure ero indeciso Tra il 3 a 0 e il 2 a 0 Alla fine ho scelto il 2 a 0 Ti spiego anche perché Perché ho il punto Perché mancano La Varo Martinez Di Marco E Quadrato Ma non solo Perché ci stava come ragionamento Ma io ho fatto un altro ragionamento In ottica Puchi Perché io ho messo il 13% Sull'under E tutto il resto Anzi il 14% Tutto il resto c'è il 13% Quindi ho detto Se devo rischiare Tra il 3 a 0 e il 2 a 0 Vado sull'under 188,1 punti Per me potenziali 163,3 Ci sta Frosinone Monza Sono tutte toste Sono tutte toste Io qua vado spedito Qua vado come dei cattiveria No io metto così Metto 1 a 1 Frosinone Monza Non credo che Frosinone Continui a perdere Ha perso con la Lazio Ha perso con la Juve Guarda ma fatti i palloncini Ha perso con il Tu che hai messo? 1 a 2 Guarda 2 Ma che è? Ma che è sta roba? 2 a 1 hai messo? Madonna che macia Ah dici che il Frosinone Batte il Monza? Per me sì 268,8 punti Ma io ho 213,4 Per me un punticino glielo Per me un punticino Glielo rubacchia Niente Ma è partito che se siamo giocati Gabbo Senti Vai io ad asset predictionare Che per noi qui guarda Lecce Cagliari Ma la smettiamo Questi match difficili No no Ho capito i punti tuoi Potenziali 213,4 Ok Lecce Cagliari Vai Ce sto Ma io no Ma vai che Lecce Cagliari Cagliari che ha fatto? A parte sono sveglione Dal Milan Il Cagliari in Coppa Lecce Cagliari Lecce Cagliari Te dico così Te dico così Faccio 300,6 punti Se la prendo Io 203,5 E vado sull'1 a 1 E io sono andato sul 2 a 1 per il Lecce Ero indeciso proprio tra 1 a 1 e 2 a 1 Però va bene Ci può stare Vediamo chi avrà ragione Vediamo chi avrà ragione Va benissimo Sassuolo o Fiorentina? Oh mamma mia Allora Vado spedito Io ho un'idea che sarà completamente diversa dalla tua Ed è talmente diversa dalla tua Due? Due? Era per fare Era per fare Il Giovedi Allora Sì comunque è così Due? Sì? A 1 Per il Sassuolo? Sì Ma io pensavo di essere scemo io Io ho messo 3 a 1 Sassuolo E io ero indeciso tra 2 a 1 e 3 a 1 Boh sai che c'è la Fiorentina Mo che è quarta Tutti casati Tutti e poi Uno sveglione qui tra capo e collo Che aschiano per te 583,6 punti Io 2,95,7 Madonna se prendo questo Pensavo meglio Eh te credo Non lo so Eh ma la mia paura è quella Su quel risultato Empoli-Milan Mamma mia L'Empoli è ultimo È penultimo l'Empoli Penultimo Fatto Fatto Io no Sto riflettendo L'Empoli però Mi sa che insegna manco che mani Di solito Mi sa manco chi i piedi Senti Mi sa manco col culo Sono deciso tra questo e questo Da ti dico questo 0-2 Io ti ho detto 1-2 Alla fine Ma sai per quale motivo Per la semplice fatica De coppa Infrasettimanale Da parte del Milan E la trasferta Insidiosa Magari una disattenzione Non lo so Ipotizzo io eh Poi non lo so Se sarà così 228,5 punti Ma secondo me Ce può stare Io dico 0-2 Faccio 217,5 Io ora ho indeciso Ti dico tra lo 0-2 E lo 0-1 Addirittura Un po' troppo poco Beh Però magari fa un golletto Il Milan Magari fanno già Iovic Il titolare Poi comunque Sempre delle stanchezze Sì ce poteva stare Allora Ecco Ma qua te ce voglio Perché Fatto Io no Fatto Io no Io no No per niente Però attenzione È la mia Pugball Perché c'è di mezzo La Lazio Quindi c'ho il bonus Del più 20% Non me lo dire Perché io ancora Non ho messo Io ti dico così Guarda A sorpresa Madonna mia Vabbè vai Ti dico così Hai detto 2-1 Udinese No Sorpresa al contrario Ho detto 3-1 Lazio Io 1 pari Quanti punti fai? Io faccio più punti Dove te Sabio È ovvio 2-32,6 Io 515,3 È 1-3 Lazio 4 gol Però devo dirti Che secondo me La Lazio ha fatto Due vittorie di fila Potrebbe fare anche la terza Magari è in un momento Un momento di forma particolare Dove deve recuperare Vi dico 1-3 Lazio Anche se Guarda No no Se non avete vinto 3-0 Col Bologna Ti avrei detto pure 4-1 Lazio Torino-Napoli Eh, bella domanda Io clicco Ho deciso Io no Adesso sì Ho scritto 1-1 Napoli che ancora inciampa 206,6 punti 204,5 Stessa sorte tua Stesso risultato Napoli Quello ho pensato Ho pensato proprio quello Salernitana Juve Salernitana Madonna Salernitana Juve Salernitana Juve Eh Mo te ce voglio Mo te ce voglio Eh Aspetta perché Torno un attimo indietro Non aveva caricato Ho avuto un problemino Di connessione Ecco adesso vedo la grafica Eh C'ho un problema anche io Qua lo sai Eh Bla 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 Io ho scelto Io ho scelto Pure io Se hai detto Orto Muso Chiudo il video E me ne vado No me ne vado Sto giro Me ne vado 0-1 163 Bannatelo Banditelo 0-1 O l'1-0 Per la Juventus Per favore 1-2 Per la Juve 228 Virgola 5 Bush Ted E poi In sé Io 163 Punto 1 Ma a differenza Tua li prendo Esatto Yeah vai Roma-Atalanta Mamma mia È l'ultimo Eh Vai Fatto Fatto Io no Io no Io sì Sono convinto Sono convinto Secondo Secondo me sai che cosa hai messo tu Sì 2-1 per la Roma No Che hai messo 1 pari Ah Quanto prendi Poco 204,2 Io prendo 298,7 E ho detto 2-0 Per la Roma Ti dovresti ricordare Il Roma-Atalanta Negli ultimi anni Eh ma quest'anno Ti dovrebbero essere rimasti Belli impressi Nella mente Mi sono rimasti impressi Però quest'anno È diverso Dici? Io ve lo auguro Ma non credo Onestamente No no Dico Dico Anche perché Vabbè io cittadino 200 punti prendo Anche perché l'Atalanta ha vinto l'ultima Poi l'Atalanta fuori casa fa fatica Dai 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 io prendo 298,7 punti 2-0 per la Roma Vediamo Ok Ma prima di chiudere ragazzi Vi ricordiamo che c'è qui sotto il link in descrizione Per registrarvi direttamente su Puky Gratuitamente Per partecipare appunto alla Lega Gratuita E poi per vincere la Pukyball Oppure va Comprate E giocate direttamente per i premi In denaro Noi Se vediamo settimana prossima C'ha fatto Aggiungeteci come rivali Sì sì Che avevo io Disfrutti Aggiungeteci Andate su La sezione rivali Pah Gabbo bene e Sikolf E così se spidiamo E fanno un macello tutti insieme Va bene? E tu fai un macello Io indovino i risultati Ciao regà Buon sciale alla alla Puky Puky Puky